Bella Dormiente Sky Race, una corsa molto particolare, una corsa in montagna, per chi non la conosce la Bella Dormiente è un profilo della montagna, un profilo che non tutti conoscono ma che è storico per queste zone. Sì, direi che la Bella Dormiente la conoscono tutti ed è proprio una catena montuosa che è piccola, corta ma che caratterizza proprio tutto il canavese. Una gara impegnativa, diciamo subito una corsa tecnica non per chi cerca la solita scampagnata. No, assolutamente no, è una corsa, una Sky Race dura e pura, in canavese non ce ne sono molte e non può farla secondo noi chi fa le solite corsette ma per fare la Sky Race serve anche la passione e l'amore per la montagna, bisogna frequentare la montagna, amare la corsa e allora queste due cose unite assieme consentono di partecipare alla Bella Dormiente Sky Race. Una corsa per la quale le iscrizioni sono formalmente chiuse ma c'è tempo anche per il ritardo tale? Sì, allora abbiamo ancora istituito il giorno di sabato a Castelnuovo Nigra in sede di ritiro Pettorali e Pacco Gara dalle 14 alle 16 alle 18 per poter iscriversi per quelli che arrivano all'ultimo a potersi iscrivere. Siamo a Santa Elisabetta, si parte di qui e dove si arriva? Si parte di qui, ci sono varie punte da passare, la prima punta è quella della quinzeina di Santa Elisabetta, si arriva alla quinzeina di Frassinetto, attraverso il pian francese si arriva alla punta del Verzel, si scende a Rifugio Fornetto, si risale per quelli che qua della zona chiamano punta grande, si riscende al Paradiso, si arriva all'Alpefrera, dall'Alpefrera si scende verso il pian delle Nere, si scollina, si attraversa Moncalvo, quindi si sale di nuovo il panettoncino di Moncalvo e si riscende e si giunge a Sale che è l'arrivo dove c'è il traguardo. Vediamo un po' tecnicamente quali sono i passaggi più impegnativi. Sicuramente il primo tratto è quasi un vertical, nel senso che nel giro di 5-4,5 km si salgono i mille metri di dislivello tra la partenza qui del santuario fino ad arrivare alla quinzeina, e poi inizia la parte più tecnica, quindi non ci sono più grossi dislivelli, c'è qualche sale scendi, però ci sono dei posti in cui, appunto come dicevo prima, bisogna conoscere la montagna, bisogna amarla, frequentarla, mettere le mani anche a terra, non solo i piedi, facendo attenzione ovviamente a quello che si fa. Poi c'è il pezzo dove ci si rilassa per un pochino al piano dei francesi, poi si risale su di brutto al Verzel dove di nuovo prende un po' il fiato. Da lì inizia poi la discesa che metterà un po' a dura prova le gambe fino poi all'ultimo tratto che è il salitino di Moncalvo, molto corto ma impegnativo, secco per poi arrivare in scioltezza all'arrivo. Che cosa induce un gruppo come voi, di appassionati sicuramente della montagna, a organizzare una gara come questa che è impegnativa per i controlli, per l'organizzazione, per il tracciato? Probabilmente un po' di incoscienza, un po' di inconsapevolezza, amicizia, passione per la corsa, passione per la montagna, perché comunque altrimenti non saremmo saliti tante volte su questa montagna. Un po' tutte queste cose ci dicono va bene, d'accordo partiamo e poi ovviamente l'aiuto, la collaborazione di tanti altri amici e parenti, gli sponsor che in qualche modo ci hanno consentito di sentirci un pochino, insomma ci hanno dato lo stimolo, hanno detto va bene, qualcosa si può fare e poi alla fine siamo qua. Tutte le difficoltà le abbiamo affrontate, le stiamo affrontando, è quasi tutto pronto insomma. Abbiamo detto un'organizzazione impegnativa sotto il profilo tecnico, abbiamo parlato di sponsor, c'è chi vi dà una mano però dietro ci sono anche associazioni che collaborano con voi. Assolutamente sì, non nasciamo così proprio dal nulla, c'è l'amicizia, la passione, quello che dicevo prima, ma dietro c'è l'S di Campo Canavese, l'associazione sportiva, ci sono gli amici della montagna di Castelnuovo Nigra, il comune di Castelnuovo Nigra che ha creduto da subito in questa iniziativa, il comune di Colleretto Castelnuovo e il motoclub Valle Sacre. Abbiamo parlato del percorso, delle difficoltà, dell'arrivo ma non finisce tutto all'arrivo. No, l'arrivo ci sarà, la gara non finisce così ma ci sarà un momento di ristoro dove ci sarà il pranzo e durante il pranzo ci sarà musica, fisarmonica e sorteggi e robe rare da finire in modo sereno la giornata. Una gara importante chi arriva prima ma soprattutto una bella festa per chi ama la montagna. Certo.